Ciao ragazzi, io sono Dranix e oggi faremo una scherza a mio fratello ragazzi glielo sto facendo in corso, il mio gatto si è entrofolato in casa sua Lo sto facendo Ragazzi, non farò altri video di questo qui, di questa app, magari li farò in altre app però sempre scherzi telefonici Ragazzi è in corso, aspettiamo solo che finisca questo scherzo appunto Ragazzi, io vi invito ad unirvi alla Dranix Family, ho inventato la Dranix Family ragazzi iscrivendovi al canale, attivando la campanellina e mettendo like a questo video ragazzi Allora, aspettiamo che finisca Vado a vedere ragazzi Ho fatto a spiarlo, aspettate Perché lui ora è nell'altra stanza ragazzi, che si sta guardando i video Allora Si sta guardando i nostri video ragazzi L'ho sentito, l'ho sentito raga, sta parlando Non mi avvicino perché ho paura che dopo gli possa venire Però l'ho sentito ragazzi Vediamo, aspettate, ho fatto a spiarlo Raga, ma non ditemi che ci ha creduto però No, se ci ha creduto Sono un campione Non ci credo, ditemi che ci ha creduto Raga, non ci posso credere, forse ci ha creduto Non ci credo Non ci credo Vediamo, aspettate Aspettate, oh, sta arrivando Si è alzato Si è alzato ragazzi Sta venendo, io sono solo postazione Eccolo, è qua Fate finta di niente Si Ale, cosa è successo? E poi ha chiamato una signora che il suo gatto era entrato in casa mia Ah Lo so Davvero, la conosci? No, dice che è qua la vicina Ma noi non abbiamo un gatto No, è il gatto della vicina, scusa Ah È entrato in casa nostra, qua Ah, si, si Eh, ha detto che possiamo tenercelo tanto Ok, ok Ci hai creduto, vero? Si Ah, ok Cos'è che ti ha detto quella signora, quindi? Mi ha detto Ciao E altre cose E poi mi ha detto Forse il mio gatto è entrato in casa sua Forse hai lasciato una finestra aperta Ah, ok Ale ti stava facendo uno scherzo Cos'hai fatto? Scappo, scappo Scappo Ah Non ho fatto le quelle patte Siamo sotto le coperte Non mi vedrà mai Ok, ok Fate, fate di silenzio Fatto da lui Che lo ascoltiamo insieme, raga Eh? Ale Lo vuoi sentire? Cosa? Lo scherzo Vi dai il permesso di mostrarlo su YouTube? Si Sto facendo un video Che cosa? Vediamo Vediamo Cos'è detto Vediamo Pronto? Pronto, salve Sono una vicina La chiamo perché non vedo il mio gatto E credo che sia entrato in casa sua Eh, non è che magari lei è a casa in questo momento? Ciao È che vede A lui piace scappare Sicuramente ha trovato qualche finestra aperta O qualche buco Si sarà Si sarà Messo lì Sarà entrato A casa sua Potrebbe dare un'occhiata Per controllare se è lì? In ogni modo Fate attenzione È molto buono Ma se si sente minacciato Può saltare da qualunque posto Dove è nascosto E buttarsi addosso A me ogni tanto me li fa di questi scherzi In questi giorni Sta un po' male con la pancia Se le ha lasciato qualche cacchina sul tappeto Lo rimproveri come si deve È una sua mania Non riesco a fargli fare i suoi bisogni dove deve Ale mi hai parlato troppo pieno Non si sente Se lo vuole tenere Guardi No Pagliati forte Perché effettivamente non mi dà altro che problemi Ok Ragazzi vi consiglio di mettermi il telefono nell'orecchio Così sentite meglio Se lo tenga direttamente il gatto Grazie Grazie davvero Davvero Grazie Grazie No Ale Sempirla Grazie Sempirla Fino a finire questo video Sei finito No Allora continuo all'infinito Ragazzi Intanto io mi vado a nascondere Ragazzi io chiudo il video Ciao Ciao Ciao